Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Come, 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 come state? Spero veramente bene. Io, se devo essere sincero, ho leggermente male alla gola, però, vabbè, capita. Nel video di oggi vorrei fare dell'ASMR, il cosiddetto classico ASMR, il buon vecchio ASMR. Quindi, molto carico e rilassante. Perciò, mi raccomando, indossa delle cuffie o degli auricolari, come faccio io. E preparati a rilassarti, ok? Io inizio subito, ok? Ok, allora, qua davanti a me, diversi trigger. Iniziamo dal legnetto. Iniziamo dal legnetto. Iniziamo dal legnetto. Iniziamo dal legnetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Solo possiamo e passo subito al prossimo trigger perché il mio obiettivo è riuscire a farti chiudere gli occhi. Quindi iniziamo. Aiuto. Ho preso questa spazzola nera. Ok. Adoro il suono che fa. Ok. 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 La posiamo e andiamo avanti. Va bene? Ok. Perché qua non dobbiamo perdere tempo. Prossimo trigger. Un trigger storico del mio canale. La pallina di Natale. La pallina di Natale. Ok. 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 Ciao. Ok. Ok. va bene va bene va bene prossimo trigger ho preso la spugna da bagno che utilizzi quando magari qualcuno si fa la doccia io per esempio ne utilizzo una di questo tipo la spugna 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 due maschere viso e le schiacceremo un po' un po' A presto Ok, ok Poi vediamo, vediamo Questo ve lo ricordate? Ok, ok Pio, 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 pio Scusate se magari quando faccio un trigger non parlo molto ma sono veramente concentrato sul trigger Adesso ho qua con me queste due cannucce con dentro delle palline di cioccolato Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Siamo pronti per l'ultimo trigger L'ultimo trigger E farò un lit sound Che è fatto con questo bottino che tra tutti quelli che ho in casa secondo me è quello che ha un suono migliore Sentite bene Ok, ok 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 ancora insieme a me. Io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua al centro il tasto per andare sul mio canale e vedere tutto quello che vuoi, sia video e anche shorts che secondo me potresti trovare molto carine. E niente dai, io ora ti mando un grande bacio e buonanotte, 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 buonanotte.